Bentornati a Money Flash, finanza personale ed educazione finanziaria, tutto in 10 minuti su Liberi Oltre Le Illusioni, a cura di Massimo Famulano. Le cose di cui parliamo oggi sono un aggiornamento di mercato con la BCE che lascia invariati i tassi e forse apre un possibile caro, una Q&A presa dai commenti e nel video che riguarda la proporzione ideale tra il conto corrente e il deposito titoli e un po' di educazione al risparmio nella quale riprendiamo un discorso precedente che abbiamo visto sui benefici della diversificazione e l'investimento in obbligazioni. Vi vorrei dire anche che il 24 maggio per chi è a Milano c'è il Rankia Market Experience, un evento gratuito al quale sarò presente, quindi se vi va di venire a farvi un saluto potete passare, il link lo trovate nel video e se usate il link di affiliazione diciamo in qualche modo favorite la mia rubrica che è Media Partner dell'evento. Andando velocemente all'aggiornamento di mercato, quello che c'è da dire è che la Banca Centrale Europea ha lasciato il variato di tassi di interesse come atteso, però ha lasciato intendere che in realtà il momento del ribasso potrebbe essere più vicino. Questo marca una differenza rispetto agli Stati Uniti perché sostanzialmente vediamo che in Europa l'inflazione è più vicina al target della Banca Centrale e l'economia è più debole, sappiamo che la politica monetaria negativa ha effetti restrittivi nei confronti del sistema economico, quindi in Europa si potrebbe cominciare prima perché l'inflazione è più vicina al target e l'economia è più debole. Negli Stati Uniti l'economia è più forte, l'inflazione è vicina al target ma meno che in Europa e c'è il tema dell'opportunità politica delle elezioni, in genere i banchieri centrali tendono a non modificare i tassi per non influenzare gli elettori e quindi il primo taglio potrebbe arrivare alla fine dell'anno, questo scosso un po' i mercati perché l'aspettativa era un po' precedente, tuttavia come sappiamo non c'è una grande influenza per le nostre strategie di medio e lungo periodo, l'abbiamo detto tante volte, siamo nel campo delle non notizie, la domanda di questa settimana è esiste una proporzione considerata ideale tra conto corrente, risparmio, pronto uso, esempio buoni postali, gestione patrimoniale o deposito titoli? Ora la domanda è fatta in maniera non ermetica ma abbastanza sintetica, tenderei a rispondere diciamo in maniera, sperando di aver compreso quello che il nostro insomma lettore ci voleva chiedere, è essenzialmente la proporzione fra il fondo per la liquidità e gli investimenti non può essere fissa, non c'è una proporzione diciamo in qualche modo, non dico valida per tutti, ma in realtà non ci può essere neanche una regola generale, non so, una certa percentuale, un modo di definire, perché? Perché chiaramente quello che noi dovremmo vedere sui nostri conti corrente è quanto ci serve per le spese e per i imprevisti e questa dimensione varia a seconda della nostra età, a seconda della tipologia del nostro lavoro, se siamo dipendenti o se siamo liberi professionisti, se abbiamo redditi con frequenza variabile, varia anche a seconda del nostro reddito generale, considerate che siccome le necessità di base e pagamenti, è chiaro che magari le persone più ricche hanno consumi più elevati, ma anche lì soprattutto la percentuale sul totale, se fate finta, se io ho sul mio conto corrente l'X% del mio patrimonio in liquidità, state pur certi che Jeff Bezos avrà pure, avendo consumi incredibili, una percentuale che è molto minore della mia in termini del patrimonio generale, perché obiettivamente una persona che ha migliaia di miliardi non può insomma in qualche modo pagare un miliardo ogni cene eccetera, quindi non c'è una proporzione fissa, quello che dobbiamo tenere presente è la nostra quantità mensile di spese e di possibili imprevisti, quindi generalmente una regola del pollice può essere perché è un lavoratore dipendente diciamo da 3, 4, 5 mesi di spese, quindi immaginare che se il mio reddito si interrompe per 3, 4, 5 mesi in questa diciamo componente non riesco a far fronte alle proprie spese e tutto il resto in realtà andrebbe poi impiegato come abbiamo visto tante volte in base alla nostra capacità di tenere impiegati i soldi, quindi quanto mantenere sul conto corrente, quanto ci serve per le spese, per gli imprevisti, generalmente qualche mensilità, in realtà come ben sapete per chi magari è libero professionista o ha dei redditi più diciamo con una frequenza variabile è forse preferibile avere una giocenza maggiore di liquidità che ha una partita IVA che può essere pagato in ritardo, magari sul conto corrente deve tenere un'annualità insomma per far fronte un po' alle varie cose ma qui diciamo questa è la differenza principale sul medio periodo in realtà coglierei lo spunto per proseguire la riflessione che avevamo fatto su obbligazioni e diversificazione. Qual è il tema? Il tema è che la banca centrale, quindi raccordiamo un po' tutti i temi di oggi anche quella della politica monetaria, che la banca centrale lascia invariati oggi i tassi, li diciamo abbassi tra qualche mese, non influenza la strategia di lungo periodo. Anche le strategie di medio periodo, quelle opportunistiche di cui vi avevo parlato, compriamo obbligazioni per aspettare il ribasso dei tassi e per fare capital gain, anche queste non sono modificate perché avevano un orizzonte di 12-18 mesi quindi se si sposta di 6-7-5 mesi il taglio non cambia né nel lungo periodo né per la strategia opportunistica. La riflessione che io vi invito a fare, che qualcuno aveva un po' colto magari non in modo opportuno, è assenso nel 2025-26 investire in obbligazioni. La teoria ci dice che le obbligazioni servono per allocare la quota a medio termine del nostro portafoglio, servono per bilanciare la variabilità delle azioni e quindi con un'ottica di diversificazione. La storia recente però ci insegna che i rendimenti delle obbligazioni sono spesso insoddisfacenti e anche il contributo dato alla diversificazione è minore di quello che vorrebbe la teoria perché nell'annus orribilis in cui sono venuti giù tutti i mercati finanziari le obbligazioni non hanno protetto ma si sono andate diciamo in parallelo con le azioni. Quindi essenzialmente abbiamo degli strumenti che quando c'è da guadagnare non ci fanno guadagnare, quando c'è da proteggere non ci proteggono abbastanza. La mia tesi insomma un po' anche come provocazione perché sennò altrimenti diciamo la rubrica insomma diventa anche qualcosa di poco utile. Il spunto che io vi condivido è che vi chiedo anche di commentare nei commenti è che quello che io suggerivo prima dell'epoca dei rialzi di interesse e che suggerirò dal 2025 in poi è di schiacciare la componente obbligazionaria tra le altre due perché se le obbligazioni mi devono dare un rendimento a medio termine e mi devono proteggere ma non assolvono più a questo compito allora io che cosa faccio? Semplicemente divido quello che avremmo messo in obbligazione sulle altre quote quindi magari tengo una quantità un po' maggiore di liquidità quindi eccedo nella liquidità, compenso il rischio delle mie azioni con una liquidità maggiore non con delle obbligazioni perché alla fine questo bilanciamento abbiamo visto che rischia di non essere conveniente quindi un po' più di liquidità e estendo la parte azionaria magari diversificando l'azionario in azionario diciamo che pagare elevati dividendi che è qualcosa di più simile alle obbligazioni quindi un altro spunto potrebbe essere sostituiamo le obbligazioni una componente obbligazionaria con le azioni a reddito quindi i strumenti azionari a reddito manteniamo una diversificazione però il messaggio con cui volevo dare in chiusura è che non è un problema di oggi perché finché non calano i tassi di interesse vale ancora la pena investire le obbligazioni non fosse altro che per beneficiare del capitale gain in realtà nei prossimi anni potrebbe non valere la pena e quindi dovremmo attrezzarci con magari diversificare la componente azionaria in un azionario diciamo magari più volto alla crescita di lungo periodo in un azionario che potremmo chiamare difensivo io non amo il termine azionario difensivo vi ho spiegato perché in altri episodi e ne parleremo più avanti lo spunto con cui voglio chiudere questa rubrica è essenzialmente che vi anticipo che dall'anno prossimo potrebbe essere meno conveniente investire in obbligazioni non è un suggerimento uno spunto ditemi che cosa ne pensate quello che io suggerisco per ridurre la componente obbligazionaria è aumentare la liquidità aumentare le azioni diversificare magari le azioni fra azioni diciamo più rischiose e azioni meno rischiose fatevi sapere se vi è piaciuto se siete a milano per il ranking market experience trovate il link iscrivetevi e fatemi sapere se vi piace questa rubrica continuiamo anche se come dire le visualizzazioni non sono il massimo e vi do appuntamento alla prossima settimana arrivederci